Io dico solo una cosa, che c'è un'inclinazione in Italia della politica per tutelare la politica. La politica che difende? La politica ai potenti. Perché alla signora Maria del Mercato, o a me, di essere intercettato, non me ne frega nulla. Mi intercettino H24, troveranno qualche lettera d'amore e poco altro. Cioè, diceva mia nonna, male non fare, paura non avere. Però, sulla questione di andare a restringere sempre di più l'ambito di possibilità degli inquirenti e dei giornalisti, è un'inclinazione che va a tutela esclusivamente della politica, non della povera gente.